Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Caterina, questo qui è il mio canale YouTube. Allora, è un sacco di tempo che non metto un video, vi spiego, io sono qui in Romagna da tre mesi. Questo video è per me molto importante perché tornerò a Roma dopo tre mesi che non vedo il mio cavallo, perché praticamente non monto, avrò montato due volte qui. Adesso noi andiamo a fare il tampone e vediamo, domani alle 7.45 ho l'aereo e in teoria dovrei andare in maneggio una volta che arrivo a Roma. Perciò vi porto con me, faccio un vlog di due giorni praticamente e noi ci vediamo più tardi. Ciao! Che dici, sei pronta? Lo facciamo sto tampone. Allora ragazzi, video super veloce per aggiornarvi di quello che è successo in queste ore. Ho fatto il tampone, risultato negativo, è stato abbastanza sgradevole però vabbè, queste cose si fanno per viaggiare. Infatti ormai non sento neanche più niente. Ho pulito tutta la mia stanza, ho messo tutto a posto, ho dovuto fare le valigie, fare un paio di scatoloni e però ho quasi finito. Devo giusto mettere le cose che mi serviranno tra un paio d'ore per prepararmi per andare all'aeroporto. Stanotte non dormo, cosa che sarà molto interessante perché domani devo montare il cavallo e andare ad accompagnare Dina in gara. Perciò non sarò completamente morta, però dormirò in aereo. Io vi aggiorno più tardi quando sarò pronta per andare all'aeroporto e niente, ci vediamo più tardi. Un bacio, ciao! Allora, buongiorno, sono le 5 del mattino, io sono praticamente pronta per uscire di casa, anche se ho 45 minuti, anzi non sono pronta per uscire di casa, un sacco di cose da mettere a posto. Comunque mi sono vestita e niente, adesso devo mettere le ultime cose in valigia e alle 5.45 usciamo di casa. Siamo arrivati, adesso andiamo alla macchina e andiamo al maneggio, direttamente al maneggio. Siamo, siamo. Che dici? Che è successo alla criniera? Che è successo? Chi te l'ha fatta crescere così lunga? Adesso paghiamo. Siamo, quanto sei bella. Le ho fatte i piedi e le ho fatte anche la criniera, però non è perfetta, devo rifinirla domani. Non che un po' ho lavato la faccia qui, però non è andato via del tutto. E adesso lo salgo. Allora, sono sul cavallo, c'è anche Odina. E poi dopo andiamo in gara, speriamo che riuscirò a sopravvivere il rientro in sella, perché non molto danza, più grande niente. C'è una persona, non so. Allora Mi sentono tutti per il Vio Veneto Comunque ho montato Ho fatto cagare il cavallo È andato bene Però ho contato soltanto il cavallo Dina è docciata praticamente Perché si è fatta tutta Villa Borghese Sotto la pioggia E appena Dina ha finito di fare le sue corsette Ha smesso di piovere Perciò è stata fortuna nel piove E niente Adesso dobbiamo cercare un posto da mangiare E niente Vi adazzo Stiamo guardando il riscaldamento Del mio istruttore Di Antonello E adesso Poi di Nomegara Sei pronta? Grazie Vai a questo panico Buonasera ragazzi Scusate le condizioni davvero pietose Comunque io vi ho messo alla fine un video di Vina Che è stata davvero molto brava oggi E sono super contenta di come ha montato L'ho aiutata un po' in giro Non ho fatto un gran che Però sono stata in giro tutto il giorno Sono davvero sfinita Morta Abbiamo mangiato E domani è lunedì Perciò è un giorno di riposo Per il cavallo Io ho montato davvero male Però Ne l'aspettavo come cosa Spero che questo video vi sia piaciuto Spero di portare molti più video Adesso che sono finalmente tornata a Roma Grazie a tutti Che mi stavate chiedendo i video Le cose Tutti i messaggi carini Che ho ricevuto Grazie davvero a tutti Vi voglio davvero tanto bene Noi ci vediamo nel prossimo video Vado un abbraccio Ciao